Devo entrare nella biblioteca Deve esserci un altro ingresso Da dove provvedeva? Oggi mi ha spettato un po' E' un'occasione spesso su Non so cosa sia successo esattamente Ma c'è la voce che le guardie prima Al sotto Qui posso risalire Non c'è tempo per questo Riuscire a rallentarla Riuscire a rallentarla Riuscire a rallentarla Riuscire a rallentarla Perfetto Rivelivolo 1 Il nucleo della macchina del tempo è in viaggio Ehi Tieni le mani in vicino Che diavolo succede qui? Comando William Joyce Nella biblioteca Attendiamo un ultimo Adesso Fanno saltare la biblioteca Ora Attaccare Attenzione E' qui Tieni le mani in vicino Tieni le mani in vicino Tieni le mani in vicino Che Jack! Corri! No! Alcina, pochina! Alcina, cobertura! Alcina, la regala! No! Accidiamolo! Un'altra un'altra terra! Un'altra un'altra una... Un'altra C'est mon mort! Un